Ieri Flavio Furia si andava all'olio can it, che mi vado sempre e ogni volta che vado mi sento moralmente sconfitto perché ti mangi finché non ti viene poi più. Si è proprio sbagliato il modo che noi abbiamo di recepire questa roba qua, se poi quindi a morte. E quindi oramai già che esiste la tecnologia, perché oramai ti ha addirittura il menu col tablet, dovresti dire che mancate ordini vien fuori dei bambini dell'Africa, come quello del sicurezza, vien fuori dell'Africa ma manca te ordini, e questo è sempre più magro, sempre più magro, questo è colpa mia, non posso mangiare fino a morire, mentre lui mori perché non ha niente di mangiare. Questo era il discorso di partenza, che già adesso gli sta lavorando un pochettino sulla tua autostima, ti metti già un pochettino nel senso del colpa d'osso, perché adesso c'è il tablettino che quando ti arrivi a aver ordinato otto robe, e se ferma, ti ti puoi ordinare solo otto robe alla volta. Quando te le ordini tutti insieme, non ti sei accorto di che ti ha ordinato sessantaquattro piatti, ma quando ogni otto, lui ti fa basta, basta, allora. Che poi si è dato che l'olio canate funziona col principio dei genitori di una volta, finché non ti mangiare in piatto, non ti sei alzare. E ti va in cesso, c'è scritto, vi prego non stai buttare i uramati incondotto. No, no, no. Nooo.